Om Shanti, il potere dello yoga. Nello yoga si ricevono tre regali, la serenità di un sano distacco, l'amore per ciò che è vero e le benedizioni in ritorno per le vibrazioni di pace che emanate. Non sottovalutate le vostre vibrazioni, fanno la differenza, possono proteggere o creare ostacoli, possono donare conforto oppure disagio. Per creare qualcosa di nuovo il vecchio modo di pensare, vecchi atteggiamenti dovrebbero cambiare. Siamo in un capitolo di storia dove il cambiamento è forzato e facendo buon uso di questo periodo di ritiro, valiate quello che potreste migliorare. Karuna in Hindi vuol dire compassione, è avere compassione per se stessi darsi l'opportunità di cambiare. E se avete qualche domanda andate nella profondità del silenzio e riceverete tutte le risposte. Om Shanti